Nero su bianco, stavolta vergato in dieci pagine di dispositivo che il Tribunale di Firenze, a firma della giudice della terza sezione civile Pasqualina Principale, ha consegnato alla Fiorentina e al Comune di Firenze, parte in causa dopo che la società aveva chiesto una sospensione urgente dei lavori di riqualificazione dello Stadio Franchi, aducendo come motivazione il danno economico, l'incertezza sul cronoprogramma dei cantieri e l'atteggiamento poco leale da parte di Palazzo Vecchio. Tutte questioni che il Tribunale ha rigettato, obbligando anche la società al pagamento delle spese in lite. In prima istanza, dice la giudice, Fiorentina era consapevole di tutto. È sufficiente considerare il fitto carteggio, si legge, la documentazione e le numerose interlocuzioni tra le parti intervenute dal 2021 e in particolare l'incontro del 12 dicembre 2023, a seguito del quale la dirigenza della società proponeva una soluzione di compromesso, totale giocabilità e utilizzo dello stadio per la stagione 23-24 e il non utilizzo dell'impianto per le stagioni 24-25 e 25-26. Ma il dispositivo sottolinea anche la buona fede dell'amministrazione e a suffraggio di questo porta anche la lettera del direttore generale Ferrari, in cui a fine trattativa ringraziava proprio il Comune. Per il Tribunale è fondamentale anche che non si perda l'opportunità di qualificare un'opera importante e simbolica come lo Stadio Franchi e per questo uno stop dei lavori, si legge, cagionerebbe un concreto e irreparabile danno all'ente pubblico. Dalla Fiorentina arriva un seccono comment, mentre il Comune mantiene a plombe sulla vicenda. La sindaca Sara Funaro definisce cordiale il primo incontro avuto con la società qualche giorno fa e conferma che ci saranno nuovi colloqui, anche con i tecnici, per mettere in campo tutto ciò che deve essere fatto per garantire la capienza, che è confermata nei 24.786 posti lordi previsti dalla planimetria di Palazzo Vecchio riportata oggi dal Corriere Fiorentino. Secondo il Quotidiano, la società chiederà un aderego alla Lega per i tifosi ospiti, che dovrebbero essere 1.200 di norma, troppi per lo spazio a disposizione. Cambierebbe, se il documento sarà confermato, anche la gestione logistica dei tifosi, sia per l'arrivo che per il deflusso, così come gli ingressi per i mezzi di soccorso. Inoltre sarebbero stati trovati come spazi aggiuntivi per i parcheggi dei residenti, nei giorni delle partite, sia il Mandela Forum che la piscina Costoli. Ma sono soltanto indiscrezioni su un piano che nei prossimi giorni dovrà essere redatto e accettato da tutti, in un tavolo tecnico tra Palazzo Vecchio e Fiorentina, nella speranza che l'estate porti un po' di calore in un rapporto che negli ultimi mesi si è fatto piuttosto gelido.